Partirà ugualmente la cassa integrazione per i dipendenti dello stabilimento siderurgico di Taranto nonostante il mancato accordo nell'incontro tra ArcelorMittal e sindacati in merito alla proroga dal 6 luglio e per quattro settimane degli ammortizzatori sociali che interesseranno un numero massimo di 8.153 dipendenti dello stabilimento attraverso la cassa integrazione con causale Covid-19. L'azienda ha ribadito che andrà avanti lo stesso con la procedura in quanto la cassa integrazione si rende necessaria per una caduta degli ordinativi a seguito della contrazione del mercato dell'acciaio scaturita dal post-pandemia. Intanto i sindacati dei metalmeccanici spiegano di aver avanzato delle richieste in merito all'integrazione salariale alla diminuzione del personale coinvolto dalla cassa integrazione ordinaria ad una rotazione equa dei lavoratori a parità di mansioni. Attualmente, secondo quanto riferiscono le sigle metalmeccaniche, sono circa 3.100 i dipendenti diretti collogati in cassa integrazione ordinaria, mentre la presenza in fabbrica è di circa 3.800 lavoratori. Per il personale dell'indotto, la presenza media invece si attesta intorno ai 2.200. Dall'incontro è emerso che sono state riavviate alcune attività dell'autorizzazione integrata ambientale, ovvero il trattamento delle acque, la copertura dei nastri, la rimozione dell'amianto, l'antincendio, la depolverazione della doccia delle batterie 7, 8 e 9 e la copertura del parco fossile.